Bene, dopo le tre lezioni di introduzione storica al percorso che ha portato alla gravitazione universale e alla moderna visione dell'interazione gravitazionale tra diversi corpi, andiamo un pochino più in dettaglio e riassumiamo velocemente quanto già visto. Abbiamo visto che da una mole piuttosto corposa, diverse migliaia di anni di dati astronomici probabilmente i monumenti o i riperti astrologici demandati a osservazione del cielo sono tra i più antichi, abbiamo visto che già in epoca antica, in epoca ellenistica, è stato proposto e motivato il modello che vede la Terra, scusate, il Sole al centro del sistema solare, quindi il modello heliocentrico. Che attenzione è già superato, perché in realtà il modello proposto all'epoca e quello al nascimentale vedono il Sole al centro dell'universo, cosa che in realtà non esiste, l'universo non ha centro e il Sole non è fermo, il Sole ruota attorno al centro della galassia, quindi anche quella è una semplificazione di com'è il cosmo, ok? È una semplificazione utile ma è una semplificazione, il Sole non è tutt'altro che fermo, ok? E il centro dell'universo non c'è, non esiste, l'universo è infinito ed è privo di centro, qualunque punto può essere preso al centro dell'universo. Però utilizziamo questa semplificazione che qual è il vantaggio del modello heliocentrico rispetto a quello geocentrico. Spero che in quanto già detto sia nelle lezioni precedenti sia abbastanza chiaro, il modello heliocentrico è in grado di spiegare più fatti astronomici, spiega in modo più semplice le osservazioni, in particolare le stazioni e le retrogradazioni dei pianeti, come quello di Marte per esempio a un certo punto nella sua orbita, si spetta la Terra, si ferma, torna indietro e poi ritorna a muoversi verso est. Ecco, quello è il modello geocentrico, ha difficoltà a spiegarlo, d'accordo? Successivamente, nel prima formulazione di questo modello, comunque le orbite dei pianeti erano intese come delle circonferenze, anche quella è una buona approssimazione ma è un'approssimazione. In realtà le orbite dei pianeti, cioè le loro traiettorie, sono delle ellissi e questo è stato proposto per la mia volta usando dati astronomici antichi, anche lì c'è un messaggio importante, in realtà grosse scoperte scientifiche non richiedono osservazioni o strumenti nuovi, basta ripensare a quello che è già disponibile, come ha fatto Cheplero. Con le leggi di Cheplero, le caratteristiche orbitali dei pianeti vengono descritte in tre leggi. Nella prima legge si afferma che l'orbita di ciascun pianeta, pianeta scusate, è un'ellisse, non una circonferenza, anche se possiamo tendere come una circonferenza su un caso particolare di ellisse, col sole, in uno dei fuochi. Infatti mi fa un disegno, qui c'è il sole e qui c'è il pianeta. Nella seconda legge, stante la forma non sferica circolare dell'orbita, si descrive come l'orbita viene percorsa, in particolare immaginate di avere il sole in questa posizione, qui c'è lo schiacciamento, cioè le eccentricità dell'orbita, la esagero molto, perché in realtà le eccentricità non sono mai molto grandi. Immaginate di avere il pianeta in questa posizione e di congiungere, fatemelo fare in verde, il sole col pianeta. Questo si chiama anche raggio vettore o raggio che dà la posizione del pianeta rispetto al sole. In un dato intervallo di tempo, il pianeta spostandosi ad esempio dalla posizione P1 a P2, copre, il raggio vettore, volevo dire, copre una determinata area. L'area coperta, chiamiamola delta, l'area coperta è proporzionale al tempo impiegato per coprirla, cioè a parità di tempo vengono coperte aree uguali. Quindi è chiaro che se nella fase dell'orbita in cui il pianeta è lontano, questa specie di triangoloide che ha due latti rettilini e un lato curvo, perché la base è curva dato che è un pezzo di ellisse, ha una base piccola, perché l'area comunque è data da base per altezza più lunga, mentre quando è vicino a, chiamiamo queste tre posizioni P3 e P4, per coprire la stessa area, la base di questo rettangoloide deve essere più grande, quindi percorre un arco, una porzione, ecco meglio di ellisse, più lunga, per cui qui, in questa regione, la velocità tra il punto 3 e il punto 4 è maggiore di quella che c'è tra il punto 1 e il punto 2, quindi deve muoversi più rapidamente. Quindi questa legge sta a indicare essenzialmente che più il pianeta è vicino al sole, più rapidamente percorre la sua orbita. Attenzione, la prima e la seconda legge si riferiscono a caratteristiche dell'orbita di un pianeta qualsiasi, ma parlo di un'orbita. La terza legge invece mette in relazione orbite diverse, ok? Se per esempio ho, qui c'è il sole e qui ho il pianeta 1 e qui ho il pianeta 2, ciascuno che avrà la sua orbita, non riesco a disegnarla tutta, ok? Allora il rapporto tra, attenzione, il cubo del raggio medio dell'orbita e il quadrato del periodo di rivoluzione, cioè quanto tempo impiega a percorrere l'orbita, è lo stesso per tutti i pianeti, ok? Quindi più lontano si trova il pianeta dal sole, più lungo è il periodo impiegato a percorrere l'orbita completa, con questa particolare relazione, d'accordo? Quindi attenzione a questa differenza, la terza legge confronta orbite diverse, ok? È tutto chiaro fin qua? Quindi nel caso particolare dei due pianeti, per esempio di prima, se faccio il rapporto R1 alla terza diviso T1 alla terza, ottengo lo stesso numero che se faccio il rapporto tra R2 alla terza e T2 alla terza, dove R1 e R2 sono riferite al primo e al secondo pianeta, perché questo rapporto è lo stesso, è costante, cioè, è costante, prego? Sì, chiedo scusa, troppo, troppa fretta, costante significa questo, ok? Cioè è lo stesso per tutti i pianeti, tra un attimo vediamo che cosa c'è in questa costante, in questo K, d'accordo? Le tre leggi di Keplero appena viste sono leggi fenomenologiche o empiriche, cioè Keplero non aveva la più palida idea del perché funzionano, ok? È un modo per riassumere in modo semplice, in modo compatto, le proprietà che lui studiò delle orbite dei vari pianeti, di cui ha fidato in particolare di capire perché Marte fa quello che fa e lui è giunto a questa generalizzazione. Una legge di questo tipo, una legge empirica, trova la sua collocazione all'interno di una teoria, cioè ha bisogno di una teoria che la interpreti, nel senso di dire perché funziona in questo modo, qual è il principio base che spiega questo tipo di fenomeni e questo è il lavoro che ha portato a termine Newton, cioè le leggi di Keplero sono state interpretate da Newton nei Principia, che è stato scritto proprio per questo motivo, che ha lo scopo di fornire uno strumento interpretativo che mettessi insieme tra l'altro, non solo i moti dei pianeti, ma anche i moti sulla Terra, quindi una grande unificazione. Se riesco con una sola legge a capire come si muovono gli oggetti sulla Terra e gli oggetti in cielo, direi che ho fatto un enorme passo avanti. L'ultimo, uno degli ultimi premi Nobel per la fisica, è stato assegnato l'ultimo a Parisi, il precedente a Rubia, Carlo Rubia, è stato dato a queste persone, a Rubia in particolare, perché hanno unificato due forze diverse, hanno capito che due meccanismi che prima si ritenevano distinti, con cui i corpi interagiscono, sono in realtà gli aspetti diversi di una stessa interazione, hanno unificato per capirci le forze elettromagnetiche e quelle nucleari deboli. E questo, quando questo succede, quando riusciamo a capire che oggetti diversi, fenomeni diversi hanno aspetti comuni che li spiegano entrambi, questo significa che abbiamo capito meglio quello che funziona in natura. Su cosa si basa l'interpretazione newtoniana? Sui principi della dinamica più la legge di gravitazione universale, la quale afferma che, cosa dice questa legge? Se ho due oggetti di data massa, M grande e M piccolo, separati da una certa distanza R, indichiamola come un vettore, allora questi due corpi agiscono l'uno sull'altro con una forza attrattiva, che chiamiamo forza gravitazionale, la cui intensità, la forza ricordiamoci sempre che è un vettore, è proporzionale al prodotto delle due masse, M piccolo per M grande, diviso la distanza che le separa al quadrato ed è come vettore, la forza è parallela al vettore che congiunge le due forze, per questo c'è il versore R, è diretta da un corpo verso l'altro, c'è una forza attrattiva, ok? Quindi questo meno sta a indicare che la forza è attrattiva e questo R, quel cappuccetto sopra che è un versore lungo R, è parallela al vettore R, cioè è lungo la congiungente M piccola e M grande, questo è un fatto importante, d'accordo? Sulla base di questa espressione, Newton è in grado di, abbiamo visto come, è in grado di interpretare, cioè di predire tutte e tre le leggi di Kepler, non solo, ma la stessa legge può essere applicata a qualsiasi altro corpo celeste e anche ai corpi sulla Terra, in particolare, anche se storicamente è avvenuto il contrario, ah, manca la G grande, chiedo scusa, qui c'è anche la costante proporzionalità di G grande, ecco, in particolare conoscendo G grande e applicando la forza a un oggetto sulla superficie terrestre riesco a calcolare G piccolo, cioè l'accelerazione gravitazionale di un corpo sulla superficie della Terra. La costante di gravitazione universale ha il compito di mettere d'accordo un'unità di misura, cioè se la forza è misurata in Newton, ok, la massa in chilogrammi e la distanza in metri, allora l'intensità della forza è sia proporzionale al prodotto delle masse diviso la distanza del quadrato, ma c'è una costante G che fa in modo che questo prodotto dia come risultato una forza, ok, infatti G ha le sue unità di misura, G vale 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metro quadro diviso chilogrammi alla seconda, e come vedete è una forza molto debole, è una costante molto molto piccola, ok, per questo sulla superficie della Terra normalmente non vediamo i corpi che si attirano l'uno verso l'altro e per mettere nel risalto è stata necessaria la bilancia di torsione con uno strumento molto sensibile, dalla formulazione della gravitazione universale alla bilancia di torsione è passato più di un secolo, quindi Newton non conosceva G, ok, d'accordo? Un primo passo che possiamo fare utilizzando o applicando questo modello, cioè questa interpretazione della interazione gravitazionale è per esempio andare a ricavarci, accettando questo come ipotesi di partenza, la terza legge di Kepler, la prima l'abbiamo vista nelle lezioni precedenti utilizzando il computer, in realtà Newton l'ha fatta utilizzando la geometria con un lavoro di altissimo livello, questo poi vi è interpretato da Feynman come vi ho contato l'altra volta. La terza legge di Kepler invece possiamo farla tutto sommato abbastanza agevolmente, in questo modo, immaginiamo un'applicazione o una conseguenza, immaginiamo che qui ci sia il sole, ok, e qui c'è l'orbita della terra, non se riesco, il giotto avrebbe fatto di meglio ma io mi accontento, questo è il raggio quindi dell'orbita terrestre, ok, e sulla terra agisce, fatemi disegnare in rosso, la forza di attrazione dovuta al sole, quindi l'intensità della forza, qui trascurro la rotazione vettoriale, scrivo solo quanto è intensa la forza, che non come diretta, vale l'orbitazione universale, massa del sole per massa della terra diviso il raggio dell'orbita, il raggio medio dell'orbita terrestre è il quadrato, sto dicendo che sto usando solo l'intensità della forza, il meno sta a indicare che è attrattivo, quindi direttamente verso sinistra, per adesso mi basta sapere quanto intensa è, ok? Ma se approssimo l'orbita circolare a una circonferenza, la forza che fa sì che un corpo si muova lungo una circonferenza, l'avevamo chiamata in un modo particolare, che tipo di forza è? La forza centripeta, quindi questa gioca il ruolo di forza centripeta, nel caso approssimato di orbita circolare, quindi posso intenderla anche come massa della terra per l'accelerazione centripeta, cioè la velocità della terra al quadrato diviso il raggio dell'orbita. Perché è una forza centripeta e le forze centripeta sono, in base al secondo principio della dinamica, massa per l'accelerazione. Ci stiamo focalizzando sull'effetto che il sole ha sulla terra, quindi la forza con cui il sole costringe la terra a ruotare lungo un'orbita circolare è dello stesso tipo di quella con cui riesco a far sì che un sasso legato a una fune segue un'orbita circolare e si faccia girare il fune. E' una forza centripeta e le forze centripeta hanno questa espressione, massa dell'oggetto che subisce la forza per la velocità dell'oggetto al quadrato diviso il raggio della circonferenza, che in questo caso è l'orbita della terra. Massa è molto circolare, al posto di v posso scrivere 2 pi greco r che è la lunghezza dell'orbita diviso tica il periodo. Giusto? Quindi, qui posso riscrivere la forza centripeta in questo modo, massa della terra per 2 pi greco r diviso t tutta la seconda diviso ancora r. Togliendo le parentesi ho massa della terra, qui ho 4 pi greco la seconda r quadro su t quadro diviso r. Qui ho r quadro diviso r, questo lo posso semplificare, e mi ritrovo con 4 pi greco la seconda massa della terra r diviso t al quadrato. Vedetemi se vi torno. Ho semplicemente diviso per r, visto che ho r quadro sopra e da r sotto. Adesso mettiamo in relazione l'espressione della forza centripeta con quella della gravitazione universale, che entra in gioco adesso. Quindi abbiamo che la forza di gravitazione universale, g, massa del sole, massa della terra, raggio dell'orbita al quadrato, vale 4 pi greco la seconda, massa della terra, raggio dell'orbita terrestre, diviso il periodo della terra al quadrato. Qui se notate ho la massa della terra a destra e a sinistra, che posso semplificarla. La massa della terra se ne va. E quindi moltiplico, qui ho r quadro a sinistra, r a destra, se moltiplico per r quadro a destra e a sinistra, qui mi rimane g, massa del sole, r quadro va via, e qui mi rimane 4 pi greco la seconda, r per r quadro fa r la terza, diviso t la seconda. moltiplico per r quadro. Io posso dividere per 4 pi greco la seconda, e ho che la grandezza, costante di gravitazione universale, massa del sole diviso 4 pi greco al quadrato, vale proprio r alla terza diviso t alla seconda. e questa è la terza legge di Kepler. Perché come vedete, a destra ho in rapporto il cubo del raggio dell'orbita, o il raggio medio se non è un'elisse, diviso il periodo al quadrato, e a sinistra ho qualcosa che non dipende dal pianeta, perché c'è solo la massa del sole, più una costante che è G, e 4 pi greco al quadrato. Questa è una grandezza, che è la stessa per tutti i pianeti. Tra l'altro indipendentemente dalla loro massa, anche se questo è il risultato, abbiamo semplificato un po' troppo il problema, comunque è la stessa per tutti i pianeti, in questo tipo di sistema. E questa è proprio la terza legge di Kepler, fatemi inquadrare in rosso. Questo è un esempio, tutto sommato algebricamente, abbastanza semplice, in cui si può mostrare come la legge di graficazione universale, cioè avere a disposizione un'espressione che mi dà la forza con cui i corpi interagiscono, mi permette di interpretare la legge di Kepler, che invece era una legge fenomenologica, cioè senza una teoria di E. Intendendo la forza di gravitazione come una forza di tipo centripeto, ho il fatto che il rapporto tra il cubo del raggio medio dell'orbita diviso il periodo al quadrato dell'orbita stessa è lo stesso per tutti i pianeti. D'accordo? Che succede se invece considerassi anche il fatto che le orbite non sono esattamente delle elissi, delle circonferenze, ma sono delle elissi, allora qui al posto del raggio, dell'orbita circolare, avrei o un raggio medio o il semiasse maggiore dell'elisse. Comunque una grandezza che mi relativa alla distanza o alla dimensione dell'orbita stessa, che ne dà quant'è lontano in media il pianeta del Sole e questo comunque il senso rimane. D'accordo? Ok? Benissimo. Diciamo un esempio iniziamo a applicare l'esempio Immaginate di avere qui abbiamo il nostro Sole, qui c'è la Terra e qui c'è Marte. Ok? Quindi qui ho il raggio della Terra, il quadro della Terra sarà questa, qui continua, qui c'è l'orbita di Marte, quindi questo è il raggio dell'orbita di Marte, non va RM, ricordo, andiamo a vedere qui il raggio dell'orbita terrestre, anche se l'attacco sto dato nell'indispensabile è circa 150 milioni di chilometri, 150 per 10 alla 6 chilometri, dobbiamo scivolo in metri per avere unità di misura internazionale, quindi è 1,5 per 10 alla 8 per 10 alla 3 metri. Quindi 1,5 per 10 alla 11 metri è l'orbita, raggio medio dell'orbita terrestre. Ok? Andiamo a vedere il raggio, possiamo trovarlo facilmente in internet. di raggio medio, è circa 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 qui sotto vedete che circa 1,5 AU significa unità astronomiche, quindi il raggio dell'orbita di Marte è 1,5 in media raggi terrestri. Detto questo, questo è il dato che ci serve, quanto impiega Marte a compiere la sua orbita? Beh, possiamo utilizzare la terza legge di Keplero, cioè utilizziamo il fatto che se prendo il raggio della Terra alla terza diviso il periodo orbitale qui T T di T T periodo T Terra un po' un conflitto di simboli ma spero che capiate e faccio questo rapporto ottengo lo stesso numero che se lo faccio per Marte quindi il cubo del raggio medio dell'orbita di Marte diviso il periodo dell'orbita marziana mi dà lo stesso risultato qui conosciamo tutto tranne il periodo dell'orbita marziana possiamo ricavare questo da questa relazione da questa che tecnicamente è una proporzione ne basta invertire e risolvere rispetto a Tm quindi il periodo dell'orbita di Marte vale il periodo dell'orbita della Terra per anzi mettiamolo prima al quadrato per il raggio al cubo dell'orbita di Marte diviso il raggio al cubo dell'orbita della Terra prendo la radice quadrata e ottengo che il periodo dell'orbita di Marte è dato dal periodo dell'orbita della Terra moltiplicato per il rapporto tra i due raggi elevato alla terza e sotto radice quindi alla 3 metri guarda radice significa elevare la 1 mezza ok quindi abbiamo il rapporto tra i due periodi è uguale al periodo della Terra per qui abbiamo 1.5 perché c'è il cubo e poi c'è la radice quadrata eccola qui per togliere il quadrato devo fare la radice o se preferisci si può scrivere anche così che è equivalente questo può sempre intenderlo come t scusate rn su rt alla tre mezzo la radice quadrata di a e a alla un mezzo ok e calcolatrice alla mano se mi sono ricordato di portarla sì ok quindi 1.5 elevato alla 1.5 1.8 quindi l'anno marziano è quasi il doppio di quello terrestre 1.8 volte ok proprio perché prego è un dato astronomico è un dato che ce l'hai dall'osservazione astronomica puoi misurare i tuoi raggi come no no è una volta emetta circa in base a questa informazione possiamo in assenza di questa non possiamo calcolare il periodo ok qui l'ho approssimato se volete eccessivamente ma conoscendo il rapporto tra i raggi posso calcolare il rapporto tra tra i due periodi dando per scontato che il periodo della terra è un anno l'anno terrestre è il tempo che impiega la terra a fare il giro attorno al sole l'anno di Marte è il tempo che impiega Marte a fare il giro attorno al sole quindi l'anno marziano dura quasi poco meno del doppio di quello terrestre dimmi certo allora abbiamo due pianeti a distanze diverse ciascuno avrà il raggio della sua orbita e il periodo orbitale che saranno diversi ok se conosciamo il rapporto tra i periodi tra i raggi possiamo anche calcolare il rapporto tra i periodi o viceversa utilizzando la terza legge di Keplero questa è la terza legge c'è il fatto che se faccio il rapporto tra il cubo del raggio medio dell'orbita di un particolare pianeta diviso il suo periodo orbitale al quadrato ottengo un numero un valore che è lo stesso per tutti i pianeti quindi sarà lo stesso per la terra e per Marte da questa relazione se conosco il periodo della terra che è un anno 365 giorni o se volete metterlo in secondi possiamo anche calcolarlo e il rapporto tra i due raggi se quanto più lontano è Marte dal sole rispetto alla terra o quanto più vicino è un altro pianeta rispetto alla terra posso calcolare il periodo cioè il tempo impiegato dal pianeta in questo caso Marte a percorrere la sua intera orbita qui è sufficiente risolvere questa espressione rispetto all'incognita che è Tm posso invertire le due relazioni quindi fare T quadro diviso R cubo a destra e a sinistra e poi moltiplicare per i due raggi al cubo quindi poi prendo e ottengo questa relazione ed elevo alla un mezzo o prendo la radice quadrata quindi il periodo del pianeta quale che sia è uguale al periodo della terra per la radice quadrata del cubo del rapporto dei due raggi delle due orbite orbita del pianeta diviso orbita della terra ok tutto chiaro ci sono domande molto bene chiaramente da qui si vede abbastanza bene che se il pianeta in questione ha un raggio più grande di quello della terra il periodo è più lungo se ha un raggio più piccolo questo numero diventa più piccolo di uno e quindi il suo periodo sarà più piccolo di quello della terra venere per esempio ha un anno un anno di venere cioè il tempo impiegato da venere per percorrere l'intera orbita è più piccolo perché venere è più vicino al sole mercurio è più vicino al sole quindi l'anno di mercurio è di molto inferiore a quello terrestre perché è più vicino più vicino al pianeta più rapidamente ruota attorno al sole d'accordo? quindi attenzione non solo ciascuna orbita dei pianeti è percorsa dal pianeta indipendentemente dalla sua distanza dal sole ma anche i pianeti diversi hanno periodi orbitali diversi a seconda della loro distanza media dal sole ok la prossima volta vedremo un'altra applicazione della stessa legge di creazione universale che è molto utilizzata per esempio nel nella progettazione di satelliti artificiali sapete che per le comunicazioni internazionali facemi fare un altro disegno la prossima applicazione che oggi non abbiamo tempo di completarla ma insomma ve la se questa è la terra ok e qui ho una città che si trova in questa posizione 1 e una città che si trova in questa posizione 2 non posso comunicare direttamente perché c'è la terra di mezzo la terra non permette la trasmissione di onde elettromagnetiche allora cosa si fa? si usa un satellite artificiale si mette un satellite in orbita la città 1 riesce a comunicare quel satellite che prende il segnale e lo invia la città 2 quindi per che funzioni devo sapere per esempio per quanto tempo e quando il satellite è visibile della città 1 e della città 2 per cui in quel modo riesco a sapere quando questa comunicazione è efficace oppure viceversa devo avere una rete di satelliti per fare in modo che durante tutta la giornata almeno un satellite sia visibile da entrambe la cosa più semplice è ad esempio utilizzare un satellite che sia geostazionario cioè che rimanga idealmente per 24 ore sulla verticale per esempio su questo punto su 1 satellite che a una certa distanza rimanga sempre sulla verticale cioè ruoti insieme alla terra si chiama satellite geostazionario in questo caso la città 1 ha sempre sopra la sua testa quel satellite quindi è sempre disponibile e con un minimo di 3 satelliti riesco a coprire tutta la superficie terrestre se ho satelliti geostazionali in realtà ogni buona rete di comunicazioni ne usa circa una ventina 20 30 ahimè effetto collaterale di questo è che perché poi i satelliti dopo un poco si guastano oppure diventano dei rottami la densità di rottami in orbita attorno alla terra è molto molto alta ogni tanto si sente anche che il giornale di un satellite perché perde energia perché collide con un altro e cade sulla terra e quindi rischio di produrre dalle normalmente è più probabile che cada negli oceani visto che gli oceani coprono una superficie maggiore di quella della terra però comunque il rischio di collisioni non desiderate c'è però di questo parliamo la prossima volta ci sono domande? ok